da giorni si parla del flirt tra chiara ferragni e silvio campara la moglie dell'imprenditore giulia lucchi ha lanciato delle frecciatine social da giorni non si fa che parlare del flirt dell'imprenditrice digitale chiara ferragni con il ceo silvio campara secondo le più recenti indiscrezioni l'influencer sarebbe stata amica innanzitutto con la moglie dell'imprenditore le più recenti teorie vedono il furto ai danni dell'ex amica giulia lucchi negli ultimi giorni sono arrivate le prime frecciatine social da parte dell'attuale moglie di campara chiara ferragni le frecciatine social di giulia lucchi il flirt tra chiara ferragni e silvio campara continua a far discutere il giornalista gabriele parpiglia ha fatto sapere come secondo le sue fonti l'influencer avrebbe rubato il marito all'amica giulia lucchi attuale moglie del ceo ricostruendo l'inizio della loro conoscenza a fronte dei marmi infatti sembrerebbe che a fare amicizia siano state prima le due donne poi qualcosa sarebbe cambiato dopo la separazione da fedez l'imprenditrice digitale non ha nascosto il suo malessere da quando ha conosciuto silvio campara però sembra essere pronta ad accogliere nuovamente l'amore nella sua vita il loro sarebbe un legame già molto forte ciò nonostante però l'imprenditore del brand di scarpe di lusso non ha ancora chiuso i rapporti con la moglie giulia lucchi nelle ultime ore i fan hanno notato alcuni lichè e commenti sospetti proprio della donna che non si sarebbe fatta problemi a lanciare qualche frecciatina contro la ferragni la notizia della presunta relazione tra l'imprenditrice digitale e silvio campara sposato e con due figli ha fatto piuttosto scalpore come ha fatto sapere gabriele parpiglia da poche settimane la moglie del ceo ha scoperto tutto il dramma esplode quando la ferragni è a capri e si lascia sfuggire una frase lui me lo prendo e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo fidanzato seduta a un tavolino frase detta però dinnanzi ad un orecchio che ha riportato tutto per filo e per segno alla moglie di campara che non ha esitato il confronto con la stessa chiara una telefonata durissima e una serie di messaggi ndr la quale però non ha minimamente indietreggiato ha confessato all'ex amica l'interesse per silvio in seguito alla discussione tra le due donne giulia lucchi ha messo mi piace ad alcuni commenti contro la ferragni sotto al post di i tesori di angelica mi hanno sempre fatto schifo le donne che fanno rompere le famiglie ha scritto un utente e giulia ha messo lì che meglio la moglie della ferragni ha fatto una figura di mera scrive un altro questi sono soltanto alcuni dei commenti ai quali la moglie di silvio campara ha espresso il suo apprezzamento confermando così le voci di una relazione tra i marito e l'imprenditrice digitale